Promuovere una maggiore comprensione della malattia e riconoscere i primi sintomi sono gli obiettivi della giornata mondiale del Parkinson. Questa sindrome colpisce 1.200.000 persone in Europa e 250.000 in Italia, ma la malattia è ancora poco conosciuta. Solo una persona su quattro sa riconoscere le prime avvisaglie e solo il 50% sa che il Parkinson è una patologia neurodegenerativa che riguarda le capacità motorie. Il Parkinson può essere notevolmente rallentato con una diagnosi precoce, non appena insorgono i primi sintomi, e con un trattamento adeguato. I soggetti maggiormente a rischio sono quelli che hanno un'ereditarietà familiare e problemi di distorsione dell'olfatto, stipsi e disturbi del sonno.